Questa è l'ultima settimana in cui si vedrà sgombra da impalcature questa importante zona del centro storico, quella all'angolo tra via Branca, via Zongo e di fatto la porta d'accesso a Piazza del Popolo. Sta infatti per partire uno dei cantieri più importanti e probabilmente anche più ingombranti di questo 2023. Parliamo del recupero del palazzo dell'ex Intendenza di Finanza. Palazzo dell'Agenzia del Demanio, dismesso da decenni ma sul quale lo stesso Demanio ha previsto un investimento da 10 milioni di euro per convogliare qui tutta una serie di uffici legati al Ministero dell'Economia e Finanza attualmente sparsi per la città, dalla ragioneria dello Stato fino all'Ispettorato del Lavoro. Recuperare un edificio è di per sé sempre una buona notizia quando è abbandonato da tempo, però si scontra con la particolare collocazione di questo edificio nel cuore della città alle porte della piazza. E dunque le attività dal lunedì 6 marzo dovranno chiudere i battenti per tutta la prossima settimana per l'installazione di impalcature. Cinque giorni di chiusura forzata ai quali ne seguiranno presumibilmente altri cinque al momento in cui le impalcature verranno smontate. In mezzo un lungo periodo in cui le attività saranno aperte ma convivranno con un assetto cantierizzato. E infatti previsto per gennaio 2024 la fine dei lavori, lo sgombro dalle impalcature in concomitanza con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella previsto appunto per metà gennaio in occasione dell'apertura del 2024 anno di Pesaro capitale della cultura. Lunghi mesi di questo 2023 con cui diverse attività dovranno convivere con un assetto cantierizzato con delle impalcature. Parliamo ad esempio dell'attività di Cosmesi Eva Garden, l'attività di abbigliamento Aura, quella di Scarpe, lo storico negozio Ricci, l'edicola e il negozio Brandina, il negozio di abbigliamento Original Marines fino al noto bar centralino cuore della piazza. Disagi inevitabili ma anche necessità inevitabili come quella della riqualificazione di un palazzo che sta procurando anche infiltrazioni in alcune attività. C'è un dialogo in corso col Comune che dove possibile cerca di attenuare questi disagi e anche le attività in questione ammettono le difficoltà ma ammettono anche lo stato di necessità di questo lavoro. Sicuramente il disagio lo porterà, è ovvio però ovviamente è un lavoro che si deve fare quindi dobbiamo portare un po' di pazienza. Speriamo che il sindaco, tutte le istituzioni lo facciano in maniera corretta, più rispettosa possibile verso i nostri clienti. Noi comunque intanto i clienti li stiamo informando che non è una chiusura, perché tutti ha chiudete, non è una chiusura definitiva, è momentanea. I disagi sicuramente le porterà, portiamo pazienza e siamo sempre fiduciosi perché poi sarà tutto molto più bello. La prospettiva è dieci mesi con le impalcature, è un prezzo da pagare per avere però una situazione migliore. Sì, la prospettiva è questa, purtroppo non si può fare diversamente, io sono sempre positiva, quindi se il prodotto è buono anche con l'impalcatura venderemo. E come detto c'è un dialogo in corso per attenuare i disagi con il Comune ma anche con associazioni di categoria che stanno pensando dove è possibile anche di trovare delle strade per indennizi. Intanto prima di tutto volevo scusarmi per un errore tecnico mio, che ho detto che c'è una riunione il 9 di marzo con la sovrintendenza, purtroppo io ho capito male una cosa, ma perché ormai stiamo lavorando ogni giorno per il San Domenico sia per questa impalcatura che ci sarà nell'intendenza di finanza. Per il resto no, invece noi con il pool di avvocati stiamo cercando di lavorare per capire se è possibile attenuare l'esborso economico degli operatori che oltre all'esborso economico della futura ristrutturazione della parte esterna, perché poi dovremmo sottostare con la sovrintendenza ai colori che richiede la sovrintendenza, almeno per i 10 giorni di chiusura, i 5 per l'impalcatura che viene messa, sia i 5 per i giorni che ci saranno per togliere la stessa impalcatura, almeno di dare a questi operatori un obolo, un sussidio per i disagi che verranno creati con la ricostruzione e la ristrutturazione di questo stabile.